Ciao, oggi vediamo il sesto esercizio, un esercizio molto tosto per rinforzare gli addomi, la bicycle, si esegue in questo modo, ci mettiamo i gorgati a terra, gambe flesce, gomiti dietro la testa, gomiti ben aperti, schiena importata sempre in appoggio a terra, da questa posizione allunghiamo la gamba destra, con il gomito destro tocchiamo il ginocchio sinistro e viceversa, sempre tenendo bene la schiena in appoggio a terra, il movimento lento ci permetterà di tonificare maggiormente i tuoi abdominali, bene, proviamo a esercizare 5 sede da 30 ripetizioni di questo esercizio, quindi 15 distensioni della gamba destra e 15 della sinistra, allora vediamo che ci sono così, ciao!